Presentato a termo il tanto atteso progetto di riqualificazione di via Longo e dell'intera area ad essa adiacente, da tempo ferma nel degrado. Messo nel cassetto quello avviato nel 2012 dalla precedente amministrazione e successivamente naufragato, il Comune nel 2012 ha avviato un percorso con associazione e ordini per avviare un piano di riqualificazione del complesso che mantenga una quota di dirizia residenziale popolare superiore al 50%. Costo dell'intervento oltre 16 milioni di euro, fondi che dovranno essere intercettati tramite bandi europei e nazionali. Dopo il fallimento della proposta progettuale che fu avanzata nel 2012, che evidentemente non aveva nulla di sociale e ovviamente non aveva neppure le gambe per poter proseguire nel suo percorso e ha bloccato, ha tenuto ferma in realtà la riqualificazione di via Longo per tanti anni, oggi finalmente si riparte, si riparte dopo un confronto con le associazioni, dopo un confronto con gli ordini, dopo un confronto con i residenti che devono essere coinvolti, cosa diversa rispetto al passato, e arriviamo a definire un progetto che conferma una forte impronta sociale, addirittura non solo vengono confermati 96 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ma vengono incrementati di altri due, viene integralmente riqualificata l'area, riconnessa con il parco fluviale e soprattutto si va a ricucire uno spazio che purtroppo in questi anni, ripeto, è rimasto fermo a causa di scelte progettuali sbagliate, ricucirlo con la città. Partecipiamo ovviamente al bando per la rigenerazione urbana presentato dal governo nel 2020, ma questo progetto in realtà è il nostro progetto con il quale parteciperemo a tutti i canali di finanziamento, compreso il recovery, per restituire finalmente ad uno spazio importante e fondamentale della città, nel rispetto della vita di coloro che ancora risiedono in quegli spazi, appunto finalmente un futuro diverso.